Manuel è trapassato nel 1989 a 15 anni. Viveva a Roma, nel quartiere del Pigneto. Il padre non voleva dargli il motorino. Lui se lo fece imprestare da un amico, corse contro mano in una stradina del suo quartiere, si scontrò frontalmente contro un'auto e morì dopo molti giorni di coma. I genitori dettero l'assenso per il trapianto degli organi. La medium GB vide Manuel per la prima volta come coperto da un mantello e incapace di comunicare. Quando poté parlare, Manuel disse in romanesco che aveva il mantello perché voleva coprire i buchi del suo corpo. Noi crediamo che si tratti del corpo astrale.